Prossimo viaggio apostolico di Papa Francesco, la Colombia, dal 6 all'11 settembre, Bogotà, Villa Vicencio, Medellin, Cartagena, le città che saranno toccate. Ieri la Santa Sede ha reso noto il programma. Prossimo viaggio apostolico di Papa Francesco, la Colombia, dal 6 all'11 settembre prossimi, Bogotà, Villa Vicencio, Medellin, Cartagena, le città toccate. E' la Santa Sede che ha reso noto il programma del viaggio apostolico di Papa Francesco e la notizia arriva nel giorno in cui arriva anche l'annuncio del definitivo addio alle armi da parte delle forze armate rivoluzionari colombiane per decenni in guerra contro lo Stato. Il 6 settembre Papa Francesco giungerà a Bogotà e inizierà il suo giro. Incontrerà innanzitutto le autorità nella Plaza de Sarmas, nella Casa de Narigno a Bogotà e li terrà il suo primo discorso. Poi incontrerà i Vescovi e il Comitato Direttivo del Celamo nell'Annunziatura Apostolica. Nel pomeriggio la Messa nel Parco Simon Bolivar. Successiva destinazione, venerdì 8 settembre, il Papa si recherà a Villa Vicencio. Qui è atteso nel pomeriggio il grande incontro di preghiera per la riconciliazione nazionale nel Parc Las Malocas e il Papa pronuncerà un discorso. Dopo il Papa sosterà alla Croce della Riconciliazione nel Parc de los Fundadores prima di ripartire per Bogotà. Sabato 9 settembre invece Papa Francesco partirà in aereo per Rio Negro. Da lì si trasferirà in elicottero all'aeroporto di Medellin dove celebrerà la Santa Messa. Nel pomeriggio l'incontro con i sacerdoti, religiosi, consacrati, seminaristi e le loro famiglie di provenienza nello stadio coperto La Macarena con un discorso del Pontefice. Domenica 10 settembre il Papa invece partirà per Cartagena dove benedirà la prima pietra delle case per i senza tetto dell'opera Talitacum nella piazza San Francesco d'Assisi. Seguirà l'angelusse davanti alla chiesa di San Pietro Clavè seguita dalla visita al santuario. Infine il trasferimento in elicottero dalla base navale all'area portuale del Conte Car dove alle 16.30 il Papa celebrerà la Messa. Alle 18.45 cerimonia di congedo nell'aeroporto di Cartagena e ripartenza per Roma-Fiumicino dove l'arrivo è previsto per lunedì 11 settembre in tarda mattinata.